Un bel regalo di Pasqua per Tolentino. Dall'uovo è infatti uscita l'approvazione del decreto per il progetto esecutivo dei lavori della Basilica di San Nicola danneggiata dal terremoto del 2016. È da molto che aspettavamo questa PEC dall'USR. C'è giunta la PEC con la quale ci confermano l'assegnazione per 4 milioni e mezzi circa di euro per iniziare i lavori su Basilica San Nicola. Questo significa che adesso sono stati decretati l'importo e quindi il danaro. Adesso si farà il bando di gara e poi il prima possibile si partirà con i lavori, con la ditta assegnataria. Speriamo il più presto possibile. Una bella novità accolta con favore anche dal priore della comunità agostiniana di Tolentino, padre Gabriele Pedicino. Era un giorno atteso non solo dalla comunità agostiniana ma dall'intera città di Tolentino. Sappiamo l'importanza di questo santuario della Basilica e quindi è un grande traguardo, una grande ripartenza veramente per la città. Il terremoto aveva causato diversi danni anche rilevanti all'edificio sacro che era stato riaperto al culto solo dopo che erano stati messi in sicurezza alcuni ambienti, tra cui la navata centrale, l'abside, il presbiterio e la cappella del Santissimo Sacramento, mentre sono ancora chiuse la sacristia, la cappella delle sante braccia ed il trecentesco cappellone. Ora la possibilità di effettuare un importante intervento. I ragori riguarderanno Basilica San Nicola, quindi la parte della facciata, la parte interna che abbiamo visto che è stata preclusa al pubblico, il ripristino di tutto ciò che sono gli affreschi e ritorneremo ad avere la San Nicola che conosciamo da bambini. Il decreto arriva proprio nel momento in cui padre Gabriele lascerà la comunità Tolentinate per trasferirsi ad Andria dopo 19 anni di servizio per il quale lo stesso sindaco ha voluto ringraziarlo. Il comune e l'amministrazione mi hanno fatto un bel regalo quello almeno di poter partire con questo traguardo raggiunto, era una cosa tanto attesa e veramente ho detto beh posso andare via col cuore un po' più leggero perché so che questi famosi lavori finalmente partono.